In questo Flash Tips vedremo come caricare un video previamente registrato su YouTube. Mi dirigo nell'home page di YouTube dopo aver fatto il login col mio account Gmail, in alto a destra clicco su Carica, ecco qua. YouTube a questo punto mi chiede di selezionare il video da caricare, io lo trascino molto semplicemente, ecco qui video di prova, lo trascino molto semplicemente, YouTube comincia l'elaborazione del video, nel frattempo io scelgo un titolo. In questo caso video di prova, YouTube infatti va a intercettare il nome del file, descrizione, e qui posso scrivere una breve descrizione, tag, vale a dire posso inserire delle etichettature che consentiranno poi agli utenti di trovare facilmente questo video. In questo caso posso scrivere per esempio Flipped Classroom, classe, capovolta, separati da virgola. Ecco, queste sono le miniature del video, vale a dire l'immagine che comparirà prima che il video parta, posso sceglierne una, scelgo la prima. Ecco, vediamo qui elaborazione completata, era un video in effetti molto breve, fatto questo io non faccio altro che cliccare su pubblica e il video nel giro di qualche istante sarà online. Questo è il link univoco che porterà il mio video e eventualmente da diffondere nei social come ci viene qui suggerito dallo stesso YouTube. Grazie.